A me sembrava immortale, comunque mi dispiace, anche se io la penso chiaramente diversamente, è una figura che ha fatto comunque una cosa storica in tutti questi anni. Il suo участие sono stati sostenibili i miei modelli per il suo iniziato. Ma prima di tutto, è stato stato italiano per il politico. Il politico era un personaggio molto semplice, perché era molto sincero e aperto. e aveva un privilégio che non ha politici di questo tipo. E il privilégio è che ha parlato quello che pensava. Le molte amministrazioni americane hanno lavorato con lui durante i anni. Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni. E sono stati esattamente quel coraggio, quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia. Grazie a tutti.